Questo kit l'ho acquistato da Scrap Mary, è un album per mia figlia. Davanti alla copertina abbiamo la lettera F iniziale di mia figlia con un ragnetto che esce dagli occhi del teschio e una piccola tag che esce dalla bocca con cui ho messo anche un fiocchettino bianco e nero e ha dei bacitti sulla fronte, è un po' sexy anche comunque. Poi la pagina posteriore c'è una piccola taschina e poi c'è il ragnetto che si vede che entra nell'occhio con la sua ragnatela. Di qua abbiamo una carta invece con i bacetti, con la lettera R di Francesca e due fiocchettini, uno bianco e nero e uno rosso. Da quest'altra pagina abbiamo una piccola tag che viene inserita in un nastrino con le note musicali in un fiocchetto rosso e la carta di base con le chitarre, quindi molto carina e la lettera A, che è la terza lettera del nome di mia figlia. Poi una carta con delle stelline, la lettera N e un fiocco bianco e nero. In questa pagina invece abbiamo una carta un po' particolare teschi e cuore e stelle e in più queste freccette che servono per poter posizionare la foto. Poi la foto rimarrà incastrata. Poi c'è la lettera C e delle foglie bianche e nere dove c'è un fiore a forma di bottone. Qui abbiamo la Y, un fiorellino con il centrale a forma di teschio e una bustina dove dentro c'è un'altra tag. Questa carta ha tutti i cuoricini. La parte finale invece l'ho lasciata proprio semplicissima perché mia figlia ha detto che vuole metterci anche una foto più grande e quindi c'è una carta bellissima con questi teschetti e spuntano queste foglioline da sopra. In più ho messo questi due nastrini nell'anello di congiunzione. Spero che questo album vi sia piaciuto e quindi fatemi sapere. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!